Ciao a tutti ragazzi, io sono FP3 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere i miei disegni. Solo uno colorato, tra l'altro me l'ha colorato mia sorella. E cominciamo subito. Questo è Silveon, quello che mi ha colorato mia sorella ovviamente. Questo qui invece si chiama Dialga, leggendario. Questo qui è Froki, una rana. Questo qui invece è Umbreon. Ora cominciamo con quello lì di questo quaderno. La copertina è un po' saltante. Questo qui si chiama Swampert. E' un Pokémon marino. Questo qui invece è Blaziken. Questo qui si chiama Sceptile. Tutti e tre si possono mega evolvere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un pollicione in su. E ciao!